Questo mondo non mi risvecchia, in questi luoghi si parla e ci si risponde. E si procede per disattenzione e si bacilla in superficie, in una progressione dei tristi passi che conduce alla vera perdita di contatto. Voglio quel tocco, voglio uno sguardo di luce che mi abbali senza intenzione. Voglio l'istintualità dell'autentico, voglio vivere il gioco dell'incontro tra due entità accese. Amo quella creatività che trascina se stessa, che non può non essere, che trascende, che si trascende al contempo dove sorprendendosi il pensiero creativo e lasciare spazio alla sorpresa, al non conosciuto, al disatteso interessante, che agita e colpisce per proporre alternative. Il percugliare, l'alternativo, lo sconcertante, non sono altro che doni. accettare il dono della creatività come possibilità di vivere la vita in movimento, seguendo con fiducia il suo fluido e i suoi nutrienti pieni. e in questa maniera io intendo avvincere, per così essere avvinta dal suo canto partire. questo mondo non mi rispecchia questo mondo non mi rispecchia non mi rispecchia non mi rispecchia questo mondo non mi rispecchia questo mondo non mi rispecchia non mi rispecchia non mi rispecchia non mi rispecchia Grazie a tutti.